vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana lumi beer il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico biodiversità performance ambientale lumi beer nelle sue cinque versioni disponibili 4 per consumo veloce e dissetante e la versione magnum per intenditori lumi beer si abbina a qualsiasi palato lumi beer è un prodotto esclusivo azienda agricola pancera il buon seme i buoni frutti ben ritrovati gentili amici e amiche la visione all'ascolto edizione notte per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net dunque andiamo a vedere velocemente queste notizie di cronaca stavo lavorando su una scala quando evidentemente ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra nell'impatto riportato ferite molto gravi ha caduto nel pomeriggio all'interno di un magazzino di un'azienda agricola mugia dove l'operaio stava lavorando la caduta è stata di pochi metri ma il violento impatto ha dato esito come detto grave l'uomo è stato soccorso degli operatori del 118 e trasferito d'urgenza a catinara dove si trova ricoverato per un forte trauma cranico ad allertare i soccorsi i colleghi che hanno poi l'hanno trovato a terra sanguinante sul posto per i nilievi anche gli agenti della squadra volante e adesso parliamo di attività produttive con un convegno che si è svolto oggi a udine le dichiarazioni dell'assessore bini la regione friuli venezia giulia è tra le migliori se non la migliore in italia per quanto riguarda linee contributive per il sostegno del terziario sì la regione friuli venezia giulia davvero ha sostenuto come non altre regioni il comparto in questi due difficilissimi anni la regione friuli venezia giulia ha delle linee contributive e del credito agevolato che altre regioni d'italia non hanno la regione friuli venezia giulia ha messo a disposizione di queste linee contributive tante risorse economiche quindi insomma è quello che noi stiamo facendo e cercando di fare sostenere un comparto che come dire ha particolarmente sentito come parlo per esempio la ristorazione e il tempo libero l'alberghiero con delle misure ordinarie e straordinarie però serve un cambio di passo l'ho detto anche prima ad altri colleghi del sistema paese perché deve convenire produrre e lavorare in italia creare posti di lavoro e creare ricchezza io penso che non abbiamo più tempo il tempo il tempo ormai è quanto mai tirano sono trent'anni che noi aspettiamo delle scelte magari anche difficili magari anche impopolari però necessarie per lo sviluppo del nostro paese andiamo a vedere i numeri del covid in friuli venezia giulia nella giornata odierna su 1806 tamponi molecolari sono stati rilevati 67 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3 7 per cento 2468 test rapidi antigenici realizzati dai quali sono stati rilevati 219 casi l'8 e 27 per cento le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 17 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 323 nella giornata odierna si registrano 13 decessi e con questa notizia chiediamo qui questa edizione notte ulteriori news attraverso i nostri social oppure attraverso il nostro sito friuli tv punto net grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi la più che reale buonanotte vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana lumi beer il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzo di stico biodiversità performance ambientale lumi beer nelle sue 5 versioni disponibili 4 per consumo veloce e dissetante e la versione magnum per intenditori lumi beer si abbina a qualsiasi palato lumi beer è un prodotto esclusivo azienda agricola pancera il buon seme i buoni frutti